Quando arriva la stagione delle feste inizio a preparare i biscotti con i quali decoreremo l'albero ma ce ne sono anche diverse varianti che si mangiano un po' da mattina a sera come questi frollini profumati al caffè. Grazie a tutti. Per aromatizzare la frolla al caffè ci serve un espresso. Musica 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 Per appendere i biscotti dobbiamo fare un foro ed è meglio utilizzare uno spiedino quando sono ancora caldi o tiepidi. Musica Per glassare i biscotti invece faccio sciogliere del cioccolato fondente semplicemente a bagnomaria. Musica Musica Ecco i frollini al caffè sono pronti. Ora non mi resta che servirli con un buon espresso. Musica 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 Musica